la prima domanda è la più semplice o forse la più complessa perché bisogna vedere come la vedi è molto lunga chi era alessio allora in effetti si è complessa come domanda però farò del mio meglio per rispondere sono semplicemente io diciamo che non sono diciamo un appassionato di di diverse di diverse cose di soprattutto per quel che riguarda diciamo i campi dell'animazione dei videogiochi che a cui mi sono avvicinato anche grazie al doppiaggio perché comunque io ho iniziato da piccolo avevo appena sei anni quando feci la mia primissima esperienza tra l'altro quasi per caso e da lì in poi è stata una strada molto 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 complessa diciamo che io mi definisco più che altro una persona abbastanza semplice cioè quello che quello che vedi sono quel che sono semplicemente uno che si che che segue un sacco di di animazione di videogiochi di film e quando capita faccio anche doppiaggio ed è per me anche quella una una passione molto forte non lo vedo tantissimo come un lavoro ma come qualcosa con cui posso esprimermi ed esprimere la mia passione per quello che amo secondo te com'è cambiato da quando è iniziata a sei anni ad oggi mondo il doppiaggio è cambiato molto anche perché io quando ho iniziato ancora avevamo fai conto è cambiato sia a livello di tecnico che anche di di filosofia di approccio al lavoro quando ho iniziato io c'erano ancora i rulli che voleva dire che praticamente quando ti lavoravi sui film aveva avevi tutti questi rulli che erano le parti di film magari capitava appunto che facevi tutta la tua parte nel primo rullo poi si doveva cambiare e quindi tu stavi avevi praticamente un quarto d'ora da di pausa gratis perché dovevano prendere il rullo metterlo sistemarlo sono ancora come tutto tutto con il nastro oggi naturalmente tutto molto più rapido tramite il digitale e questo ha cambiato appunto anche il lavoro a livello di filosofia visto che adesso rispetto a prima almeno per quel che riguarda il doppiaggio italiano si corre moltissimo forse anche troppo in alcuni in alcuni casi visto che diciamo che prima avevamo più tempo forse per metterci dentro il personaggio adesso questo abbiamo vediamo un pochino lanciati allo sbaraglio quindi ho visto un po che questa evoluzione io durante i miei anni di lavoro questa 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 transizione tra dall dall analogico al digitale che in alcuni casi ha aiutato in altri ha portato nuovi problemi possiamo dire che in alcuni casi è tecnicamente perfetto ma il doppiaggio è piatto sì è è una cosa su cui sono d'accordo sì cioè tecnicamente siamo oggi siamo molto più puliti però manca diciamo che la sporcatura di per sé nel doppiaggio non è io non ho mai vista come una cosa negativa di per sé dipende da come viene approcciata naturalmente perché la sporcatura può anche essere parte dell'interpretazione di un personaggio o del mondo superandi di un attore faccio un esempio che conoscono tutti ferruccio amendola che era famoso un po per avere quella leggera zeppolina no sua che però era diventata parte del suo del suo essere ferruccio amendola al giorno d'oggi una voce del genere verrebbe vista come non pulita comunque poco poco tecnica però lui invece regalava tantissimo regalava tantissima personalità manca diciamo un pochetto di punto di sporco di cuore di 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 genuinità ultimamente abbiamo notato che si è difficoltà per ridurre i costi si va a cercare di ridurre anche costi sul direttore di di doppiaggio è un pochettino un paradosso perché il direttore di doppiaggio è quello che effettivamente organizza il lavoro di tutti i doppiatori il direttore di doppiaggio non è praticamente non è solo quello che dirige gli attori lui deve dirigere tutti cioè deve praticamente fare da leader e fare in modo che il lavoro della sala vada spedito e che tutti lavorino comunque insieme senza diciamo a volte anche magari andando a placare degli attriti che ci possono essere o andare diciamo cercare di spingere oltre i problemi tecnici magari sul posto succedere che ci sono dei problemi dei problemi a livello di dialogo e quindi a quel punto sta al direttore dire ok facciamo così per cercare di non intoppare i lavori per per troppo tempo quindi si è un bel paradosso il fatto che si cerchi di sparmiare anche su quella che è una delle figure più cruciali del del lavoro abbiamo visto che hai fatto tanti personaggi in realtà poi tu hai fatto harry potter mai successivamente comunque ti sei dovuto riscontrare con due personaggi di harry potter che le fatti in altri due film sì sì è stata una coincidenza abbastanza divertente perché io feci anche proprio il provino per fare harry potter in sé poi lo vinse puccio e mi misero su comunque su film simus finnegan anni dopo sì mi sono ritrovato a fare robert grint su moonwalkers e l'attore di harry potter su su swiss army man che tra l'altro è uno dei film con cui mi sono divertito di più è sicuramente tra i miei lavori preferiti e poi si è passato anche all'animazione che comunque hai fatto due film una serie tv è un film che sono importanti perché toy story comunque vada ha avuto il suo successo ma anche l'attacco dei giganti sì 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 l'attacco dei giganti per me è stata un'enorme emozione farlo perché comunque io come ho detto prima essendo appassionato comunque di animazione i cartoni animati anime occidentali che siano sono il mio mondo sono il mio pane quindi avere la possibilità di fare un anime tra l'altro così di punta su un tipo di personaggio che non avevo mai avuto occasione di fare prima perché comunque io come voce sono sempre stato utilizzato un po sui personaggi buoni quindi l'attacco dei giganti per me è stata una delle uniche volte in cui ho potuto fare un personaggio antagonista tanto che la prima volta il primo turno che che feci ricordo che uscì con le mani che mi tremavano perché stavo non riuscivo a crederci nemmeno io che ero in una produzione del genere è stato davvero davvero fantastico è anche una bella prova per me per crescere come come attore appunto per il tipo di ruolo che mi si è presentato davanti appunto hai detto benissimo attore perché il doppiatore è un attore non è anche è un attore che poi presta la voce ai vari personaggi sì esatto diciamo che l'attore tra l'altro il doppiatore tra l'altro originalmente nasce da teatro i primi i primi doppiatori erano tutti attori teatrali quindi noi nasciamo questa professione nasce proprio per come siamo attori tanto che mi spiace quando veniamo visti un po come diciamo una categoria quasi inferiore rispetto alle altre mentre invece è un tipo di lavoro altamente specializzato che ha bisogno di tanto tanto lavoro tanta pratica tanto che molte volte può capitare che quando appunto un attore tradizionale va a fare doppiaggio a volte si trova spiazzato perché è una specializzazione del tutto diversa magari si trova in difficoltà per questo e questo si sente anche nel diciamo nei lavori finali saltare da un personaggio all'altro ogni sala prende ogni giorno è un passare da un personaggio all'altro è come stare su una seggiola del psicologo e vivere mondi diversi e vite diverse quando si arriva alla fine giornata e si è pure stanchi sì sì allora devo dire sì può essere stancante come lavoro però è anche veramente veramente bello appunto come dici te ci può capitare di cambiare personaggio anche due tre volte durante il giorno quindi siamo abbastanza trasformisti trasformisti perché magari magari ti capita la mattina di fare un personaggio abbastanza pacato e poi vai a fare un cattivo disney pomeriggio per poi finire magari a fare invece qualche diciamo vai a fare magari un documentario la sera quindi sono tre esperienze totalmente diverse e devi essere in grado comunque di metterti nel ruolo sul momento visto che diciamo che c'è poco tempo per riscaldarsi tra un turno e l'altro con il tempo abbiamo visto che le varie piattaforme necessitano di rispettare il range come nei videogiochi bene o male che è necessario rispettare la forma londa in quel caso però rientrare ai propri agi degli altri paesi sì sì no è questa cosa abbastanza recente tra l'altro perché prima di delle piattaforme streaming noi comunque ci basavamo sul sul sonoro e sul labiale adesso invece di questa nuova forma d'onda che quando vai a fare doppiaggio appunto c'è questa questa barra che devi seguire precisamente che in alcuni casi può diventare anche un limite perché magari anche se una battuta può essere leggermente in anticipo leggermente in ritardo magari riesce anche a regalarci qualcosa di più magari può capitare fai conto che in un cartone animato un personaggio finisca di parlare però magari c'è una chiusura di bocca che rimane lì magari ha già finito di parlare il personaggio però quella chiusura di bocca rimane per fai conto mezzo secondo però noi prima della forma d'onda tendevamo comunque a coprirla per fare in modo che fosse tutto coperto magari può capitare addirittura che notiamo magari un personaggio sullo sfondo in una scena che sta parlando però non si sente in originale però molte volte può capitare che ce li fanno coprire comunque per avere un feedback sonoro anche in quel caso adesso invece ci chiedono di essere di rispettare appunto questa cosa della forma d'onda che non so quanto può essere vantaggioso diciamo che come si è detto prima va a forzare forse un po' troppa tecnicità su quello che è un lavoro artistico alla fine probabilmente l'immagine rimane danneggiata perché qualche tuo collega ha detto sì effettivamente se c'è un un gesto divisivo che comunque però non sono ma non c'è nell'originale non lo dobbiamo fare no infatti tra i vari personaggi che hai fatto qual è quello che ti ha dato più soddisfazione ma soprattutto ti ha messo più in difficoltà però alla fine ne sei quasi orgoglioso eh questa è una bella domanda e direi che forse sono tra potrei andare a prendere tra dei ruoli recenti che per esempio sui Starby Man per me fu molto difficile tu vuoi tornare a casa perché puoi trovare l'amore ma sei scappato via perché nessuno ti ama sta zitto non puoi sempre dire tutto quello che ti passa per la testa queste sono cattiverie col fatto che l'attore in originale comunque aveva questo ruolo di cadavere parlava continuamente sempre con con questa cosa qui della della bocca mezza paralizzata e diciamo che dare un'emozione genuina con con diciamo solo mezza bocca è stato veramente veramente difficile per me però allo stesso tempo mi ha permesso di lavorare diciamo che magari può capitare che in tante lavorazioni quando ti mettono dei limiti è proprio in quel momento in cui sei capace di giocare di più perché devi districarti tra con quei pochi elementi che hai e ironicamente quello riesce a a far diciamo scattare quella scintilla artistica in più visto che comunque è quasi una è quasi è quasi una sfida in un certo senso quindi è anche divertente poterla poterla superare e siete siete coloro che sopravvivranno insieme a Eren Jaeger la guida di Elvia oppure siete coloro che moriranno insieme le vecchie tradizioni come il cui presente Kitsati che Flock nell'attacco dei giganti per me appunto è stata una bella sfida col fatto che era un antagonista che è un ruolo che non avevo diciamo mai fatto prima così su un personaggio quantomeno così importante e lì posso dire di essermi divertito tantissimo anche perché essendo un anime gli anime sono sempre molto energici a livello di interpretazione devi sempre buttare devi sempre dare il cento per cento della tua vocalità e questo vuol dire anche fare in modo di poter dare impeto però essere anche sottile nell'interpretazione perché comunque non basta urlare per dare vita a questi questi personaggi devi comunque fare in modo che ci sia una certa musicalità e non è per niente facile però ecco sono due ruoli di cui vado abbastanza fiero amici sono divertito molto infatti una cosa con attacco gigante incontrato sicuramente Alessandro Campaiola perché faceva Eren e abbiamo scoperto che poi in realtà gli urli della trasformazione di di Eren non erano di Alessandro ma erano di un altro doppiatore perché Alessandro a quei toni non ci arrivava a così volume poi si fermavano le sale perché lui il suono era così forte che dava a disturbare altre sale questo abbiamo scoperto successivamente e poi cambia quando stai in giro e la gente ascolta la tua voce ma non ti vede ad un certo punto ti dice ma ti è capito mai che qualcuno ha detto ma ti ha chiamato col nome del personaggio allora non è diciamo che non capitava diciamo che mi viene da dire per fortuna non mi è mai capitato diciamo così casualmente magari che andavo in giro e riconoscevano la mia voce e dico per fortuna perché comunque sono di natura abbastanza introversa quindi sicuramente mi sarei paralizzato sul momento mi è capitato di che mi chiamassero che mi dicessero magari ah ma tu dovresti fare il doppiatore non sapendo che lo facevo già visto che tempo fa facevo questi video in cui analizzavo videogiochi o comunque serie animata che mi piacevano e magari nei commenti mi capitava gente e dico cacchio c'hai proprio la voce del doppiatore dovresti provare a farlo qualche volta e niente mi mettevo a ridere perché dico sì lo so grazie però diciamo che così diciamo in mezzo alla vita reale non mi è mai capitato è meglio così perché come ho detto sono molto timido di natura e mentre invece passi delle sale senti una voce di un personaggio che ti piace e dici ti giri e dici ma è lui dov'è dov'è poi in realtà vedi c'è un tuo collega sì quello capita tantissimo che magari entri in uno studio di doppiaggio e senti magari c'è gente che sta ci sono colleghi che stanno conversando e può capitare molto spesso che senti una voce e dici ah questo è lui magari li senti proprio dall'altra stanza anche perché molti doppiatori hanno questo timbro vocale anche nella vita reale molto forte quindi magari li senti che già stai entrando ma loro stanno dall'altra parte dello studio e aggiungi una bella atmosfera al posto di lavoro videogiochi ne hai mai fatti? solo una volta ma solo perché ero collegato al film del videogioco ed era Tarzan in cui facevo Tarzan da piccolo mi chiamarono per fare il videogioco per playstation 1 purtroppo dall'in poi non mi è più capitato di farli anche se mi piacerebbe tantissimo qual è il rapporto con i tuoi videogiochi visto che abbiamo notato sulla tua pagina facebook e hai messo una maria di giochi sì quello diciamo che è una cosa che faccio perché mi piace condividere quello condividere le mie passioni i videogiochi sono una passione che mi ha accompagnato sin da piccolo e non mi ha mai lasciato sono ho iniziato fin quando avevo quando avevo 4-5 anni mi regalarono un Megadrive con Sonic 2 ed è stato amore prima vista da lì poi non ho più smesso di giocare anzi è una passione che è cresciuta sempre di più tanto che la considero praticamente una nuova forma d'arte c'è talmente tanta creatività in quel settore non solo tra l'altro a livello diciamo di mainstream ci sono tanti questi team piccoli che magari fanno questi videogiochi fatti in casa tra di loro che fanno queste piccole opere che sono davvero meritevoli di essere di essere viste da più persone tanto che una cosa che faccio molto spesso è cercare sempre di cercare di mettere i riflettori su questo settore che in Italia è ancora molto ma molto sottovalutato e vedo dietro che c'è tanti personaggi Gundam abbiamo abbiamo Gundam abbiamo degli Amiibo degli Ultraman tutta roba che adoro se ti piacerebbe fare doppiare un personaggio quale ti piacerebbe se ti chiamassero allora sicuramente c'è questo anime della studio Trigger che da noi non è ancora arrivato che si chiama Gridman ed è basato su una vecchia serie live action un po' sul filone degli Ultraman di cui hanno fatto questo anime qui e c'è questo personaggio all'interno che si chiama Antic è questo kaiju questo mostro che è capace però di trasformarsi anche in umano ed è questo personaggio molto rabbioso che vuole assolutamente superare il protagonista vuole sconfiggerlo perché il suo scopo nella vita è stato proprio creato per questo visto che è un kaiju artificiale ed è quel tipo di personaggio in cui potrei buttare tutta l'energia possibile ed è sicuramente un ruolo che mi adorerei fare con tutto il cuore anche perché la serie è bellissima sono 12 episodi e non smetto mai di consigliarla a tutti teatro l'hai fatto mai teatro teatro no non mi è mai non mi è mai capitato devo dire mio padre l'ha fatto ha fatto molto quando era piccolo e che emozioni provavi quando vedevi il tuo padre sul palco di fronte alla quarta platea che sensazioni provavi quando vedi il tuo padre sopra la gente sotto che rideva si divertiva e partecipava con lui sopra il palco tu che sensazioni provavi allora il mio padre mi è capitato molto poco di vederlo appunto perché quando ero nato io diciamo che era già quasi del tutto doppiatore mi è capitato per esempio però di vedere anche mio zio è una sensazione è una sensazione strana perché tu tu conosci quella persona che sta lì sul palco la conosci molto molto bene però in quel momento quella persona non è se stessa è qualcosa di completamente diverso però allo stesso tempo lo riconosci e non è solo una questione di vedere la persona sul palco è proprio il modo di interpretare il modo delle piccole cose che fa mentre si muove mentre parla riesci a comunque riconoscere quella persona e allo stesso tempo senti che è qualcosa di completamente diverso vedere la gente divertirsi di fronte a questo a questo tipo di magia è un'emozione veramente veramente unica che mi diciamo che mi ha riempito d'orgoglio un'ultima cosa quale videogioco ci consigli è un'emozione vediamo consiglierei Xenoblade Chronicles il remake per Switch che è un JRPG fatto tra l'altro da un team che si staccò da Square che sono gli autori di Final Fantasy che hanno iniziato questa serie su Nintendo qualche anno fa ed è iniziata un pochetto di nicchia e negli ultimi anni sta crescendo tantissimo è questo RPG che ha un setting tra l'altro molto atipico visto che tutto il mondo di gioco si ambienta sul corpo di questi due giganti uno meccanico e uno organico che hanno combattuto in tempi antichi si sono praticamente uccisi a vicenda e sono rimasti diciamo sui corpi fermi diciamo come ibernati in quella stessa posizione e nei millenni si sono sviluppati delle civiltà su questi corpi giganti che adesso vengono viste come delle divinità è uno dei miei giochi preferiti penso che se siete fanno comunque sia di animazione giapponese visto che hanno una reagia molto all'anime è veramente figa di videogiochi in generale è tra i videogiochi più belli che posso consigliare le varie domande che ti hanno fatto che tu hai trattato molto metto videogiochi ma anche le domande che ti vengono ripetute più frequentemente o le domande che non hanno proprio senso logico però tu gli rispondi dicendo va bene che poi in realtà la risposta non ha neanche più senso logico di quando apriva la domanda ci sono sì allora guarda noi doppiatori capitano delle situazioni assurde posso citare una cosa per esempio che è successa a uno di miei cugini Federico a cui una volta chiesero visto che lui comunque è figlio di mia zia Monica gli chiesero di fargli la voce di Lisa Simpson a Federico credito giustamente non sono mia zia scusa ma sei doppiatore sei figlio di Monica non riesci a fare la voce di Lisa Simpson no siamo persone completamente diverse e possono capitare situazioni così che penso sia un po' un sintomo del fatto che per tanti anni questo è stato un lavoro che è stato molto nell'ombra la gente sapeva pochissimo adesso per fortuna molta più gente è capace di poter vedere come funziona il tutto io saluto tantissimo tutti voi ragazzi di Studio 7 e vi ringrazio per avermi invitato per questa intervista e naturalmente anche Flock vi ringrazia per questo questo magnifico onore mi auguro che vi unirete anche voi alla causa del nuovo impero di Eldia Sport di Ceno Game presenta l'intervista di Pietro